Sì! Presidiate la Plink in modo che gli ala Y possano intervenire. Boba Fett è stato ucciso. Il nostro bombardiere punta al camminatore. Avanti così! Fatevi avanti, ce l'ha avversuto! Dobbiamo mantenere l'operazione. Al riparo, attacco orbitale! Camminatore puntato dal nostro bombardiere. Speeders di supporto richiesti! Ablink attivato, attenti al contrattacco imperiale. Confermato! Supporto aereo in arrivo. Seguenza d'aggancio alla Y interrotta. Dobbiamo riattivare la Plink. Sto precipitando! Sto precipitando! Un razzo ricercati, segui! Stanno puntando un razzo! Stazione a Plink attivata. Stazione a Plink attivata. Il bombardiere ha confermato il bersaglio. Il bombardiere ha confermato il bersaglio. Siamo stati informati che Fenera è vicino alla vostra posizione. Attenti! I sistemi sono andati! Bombardiere pronto! Chi ha la Y puntano i camminatori! Arrivano i nemici! Dobbiamo fare qualcosa per quel camminatore! Sta per agganciare il nostro trasporto! Capo agganciato! Capo agganciato! Capo agganciato! Quasi fatto! Colpo da maestro! Un altro esempio. Un altro passaggio intorno al camminatore! Il camminatore ha subito, gravi danni … CAMMINATORE DISTRUTTO! No